La Costituzione siamo noi ragazzi e scorre nelle nostre vene come popolo italiano, ma come giustamente ha detto anche la dottoressa Gatti, in questi ultimi mesi, ma direi in questi ultimi anni, sono stati attaccati molto più dei nostri diritti costituzionali, sono stati attaccati i nostri diritti umani, i nostri bisogni essenziali. Ci hanno fatto credere ancora una volta che con la delega noi possiamo accettare di lasciare tutte le nostre sovranità in mano a questi che purtroppo io ho definito anche criminali e delinquenti. Buonasera, quasi buonanotte dal vostro Norbert, domenica sono le 22 e 38 minuti primi in questo momento, domenica 21 giugno 2020. Quella che avete appena sentito è Sara Cunial, la parlamentare di un gruppo misto, uscita dal Movimento 5 Stelle, perché probabilmente lei, ma non solo lei, si è sentita tradita dal movimento al quale apparteneva. Così come io penso e come del resto appare in tutta evidenza anche la maggior parte degli elettori che hanno votato il Movimento 5 Stelle, soprattutto per quanto riguarda i vaccini che ci sono, che vorrebbero esserci imposti, soprattutto per quanto riguarda il fatto che non passa giorno in cui la Costituzione della Repubblica Italiana non venga messa dal governo nel cassetto, soprattutto non passa giorno in cui non progredisca questa gestapo tirannia sanitaria. Le immagini gentilmente pubblicate, e ci tengo a citarlo, sulla web tv BioBlu24, riguardavano una manifestazione tenutasi a Firenze per la difesa della Costituzione della Repubblica Italiana, in cui hanno partecipato circa 12.000 persone. Dunque, viviamo in un periodo storico abbastanza movimentato, di grande cambiamento, tutto sommato abbastanza interessante. Siamo in guerra, siamo in guerra, inutile nascondercelo, perché l'esito finale sarà quello il risultato finale che ne scaturisce da una guerra. Le guerre tradizionali combattute in Europa, fino alla Seconda Guerra Mondiale, portavano distruzione, distruzione soprattutto di vite umane, di edifici, e quindi anche dell'economia. Ma nonostante tutto la vita continuava, si continuava a incontrarsi, si continuava ad andare per la strada, e soprattutto la speranza non moriva mai, perché si sapeva che questa guerra tra stati, un bel giorno, avrebbe avuto una fine. Oggi è anche peggio, perché viviamo in un periodo che dal punto di vista, diciamo così, della psiche, è angosciante, in quanto non se ne vede una via d'uscita. Perché non se ne vede una via d'uscita? Perché qua non è più la guerra di una nazione contro un'altra nazione. Qua è la guerra dell'elite che si sono messe d'accordo contro l'intera umanità, che in qualche maniera deve essere ridimensionata, deve essere schiavizzata, deve essere ridotta a cavie di laboratorio. L'abbiamo visto, quindi, con questa pandemia, di cosa sono stati capaci, non solo in Italia, un po' in tutto il mondo hanno abolito quelle che sono le libertà individuali, ma, siccome noi siamo italiani, ciascuno dovrebbe combattere per la libertà nel proprio paese, per la sovranità del proprio paese. E questo lo si può fare solamente con un impegno e una presa di coscienza, anche facendo viaggiare il pensiero, anche con il passaparola. Il passaparola è forse l'arma più micidiale che noi possiamo immaginare, perché è la cosa più difficile da censurare. Non è che si possa cancellare come si cancellano a clip nei social. Il pensiero, il passaparola è inarrestabile. Travalica monti, travalica oceani, travalica le mura. E quindi questo è il motivo principale per cui l'attacco principe diciamo di questa dittatura gestapo sanitaria si incentra soprattutto sul fatto che bisogna rimanere distanti con la museruola. Il fatto di dover portare la museruola inibisce i rapporti sociali psicologicamente inibisce anche il fluire del libero pensiero e ci tiene psicologicamente come sempre soverchiati. Leggo un po' in tutti i social una sorta di chiamiamola così fiducia nel presidente americano Donald Trump in quanto ci sarebbe fatto una sorta di pubblicità per essere contro il cosiddetto deep state cioè per essere contro in poche parole quel governo ombra a quel governo nascosto che in realtà è il vero governo del mondo e che mantiene in maniera illecita ingannevole e trasversale a tutte le istituzioni il vero potere. Non so io dico la verità a me tra tutti i presidenti americani Trump non dico che mi piaccia mi piaccia mi piaccia però devo dire quello che fino ad ora pare abbia fatto meno danni si sia impegnato meno degli altri nelle guerre genocide cui purtroppo la nazione che rappresenta è sempre stata presente storicamente presente però devo dire che appunto il presidente Trump a me non non dispiace da questo punto di vista e sicuramente è molto meglio di chi lo ha preceduto dai tempi di Kennedy che io diciamo così non non avevo delle parole a favore di un presidente degli Stati Uniti per me il buon John Fitzgerald Kennedy rimane rimane numero uno rimane insuperabile almeno per quanto riguarda la testimonianza che posso dare nella mia esperienza di vita purtroppo ha fatto la fine che ha fatto perché si è messo contro i poteri forti ma tornando al nostro Donald io quello che non riesco a capire è se effettivamente lui stia dalla nostra parte cioè dalla parte del popolo come tutti i paiono ormai convinti e per questo viene esaltato diciamo così ormai è incensato dalle masse un po' in tutto il mondo oppure se invece stia facendo una sorta di gioco delle tre carte perché nelle sue dichiarazioni talvolta è contraddittorio sta circolando nel web una petizione in cui si può scrivere direttamente alla Casa Bianca quindi al presidente Donald Trump se ho ben capito perché non vorrei venire qui a raccontare delle inesattezze o peggio ancora delle sciocchezze affinché ci aiuti aiuti l'Italia a uscire da questa dittatura dittatura de facto dittatura de facto perché in tutta evidenza qui è stata scavalcata la la Costituzione della Repubblica con dei provvedimenti assolutamente così secondo me pretestuosi e che ci hanno fatto scivolare in un regime oppressivo ci manca solo che ci buttino giù la porta di casa e che ci portino via e dopo siamo al completo ma prima di arrivare a quel punto bisognerà vedere e contare soprattutto su quella che sarà la reazione della gente la reazione dei cittadini la reazione del popolo il quale per poter reagire dovrà imparare a disobbedire alle ingiustizie le regole vanno rispettate sia ben chiaro ma le ingiustizie vanno combattute come facciamo a capire cosa c'è di giusto e cosa non c'è di giusto beh innanzitutto teniamo sempre presente teniamocela ben stretta e ben cara la nostra Costituzione che è la legge madre la legge madre la madre di tutte le leggi alla quale tutte le leggi ordinarie si debbono uniformare quindi quando incominciano a pretendere di imporre un vaccino obbligatorio che dal mio punto di vista è un vero e proprio cocktail di veleni che vogliono somministrare principalmente agli over 65 per farli fuori questo è il mio pensiero personale nell'ecito io lo penso vanno contro la Costituzione della Repubblica italiana perché la Costituzione della Repubblica italiana prevede che solamente che nessuno possa essere costretto contro la propria volontà a dei trattamenti sanitari a meno che non si tratti di casi particolarissimi fra questi conosciamo tutti cos'è il TSO ma anche il TSO deve essere immotivato non è perché uno dice va per la strada e dice questo virus non esiste che si possa sottoporlo a un TSO no deve rappresentare un pericolo concreto per se stesso e anche per gli altri se no uno può avere deve avere tutto il diritto sacrosanto anche di ammalarsi e di non curarsi quindi che non ci vengono a raccontare delle storie con questa falsa pandemia ordinata dalle multinazionali dalle case farmaceutiche e da chi vuole depopolare soprattutto il pianeta perché non hanno alcun diritto di intervenire in maniera invasiva sul nostro corpo che è e deve rimanere un tempio sacro inviolabile perciò onore a Sara Kunial che si sta battendo contro questa gestapo sanitaria onore onore a tutti quelli che appoggiano la sua battaglia al di là di come la si possa pensare perché qui ormai non è più un fatto se sei di destra oppure se sei di sinistra oppure se sei di centro e via discorrendo il mondo è diviso fra come ho già detto in altri video fra i dominanti cioè i padroni del vapore e i dominati che siamo noi noi dominati siamo molti 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 più di loro e se vogliamo se troviamo un obiettivo in un nemico condiviso la nostra forza è molto 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 alla n potenza più grande della loro perciò prima di tutto dobbiamo risvegliare la nostra coscienza abbracciatevi abbracciatevi e all'occorrenza vi sbigliate nelle orecchie il nemico ci ascolta